Abbiamo dei servizi che giustamente abbiamo lanciato nel 2018, un servizio innovativo come il Team, che è un servizio attraverso il quale la Camera con risorse umane proprie mette a disposizione dell'azienda una figura che per un periodo limitato, che ovviamente può essere deciso insieme all'azienda, ma che comunque non supera l'anno di durata, mette a disposizione una figura che svolge contemporaneamente per l'azienda il lavoro di temporary export manager e di brand ambassador, perché se da un lato come export manager temporale prepara l'azienda al mercato e quindi prepara il prodotto, prepara la strategia di comunicazione, prepara la strategia di diffusione e di implantamento sul mercato e evidentemente disegna un po' dal punto di vista del prodotto e del produttore, quelli che sono i passi a realizzare per arrivare sul mercato. Dall'altra parte, come brand ambassador, prepara invece tutte quelle occasioni di promozione e di diffusione della marca e analizzando in base al modello di atterraggio sul mercato che si è studiato, quali sono i migliori eventi a cui partecipare, quali sono le strutture o le forme migliori per diffondersi, per diffondere la marca, per dare promozione alla marca, anche se attraverso la rete sociale, piuttosto che attraverso supporti fisici oppure attraverso una rete di contatti con i collegi professionisti, uno studio accurato di quale sia la strategia di marketing per la promozione della marca migliore.